La provare? Io non voglio provare così No, si possa provare Oddio Chi le prova? Lui In realtà sono dolci a forma di cavalletta Sì, infatti E' molle? Capo? Com'è? Con sgranocchia un po' dolciastra Com'è? Ma è compreso di butella Sono un po' di Salsa di soia Buona Non ne mangerei una No 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 Chi Vai con la tua villa viva Vai con la tua villa 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 Vai con la tua villa